Ciao Mario, faccio anch'io un messaggio lungo adesso. Intanto dico che una cosa che non ho detto nel video di risposta a lui è che la mia intenzione ovviamente era di riappacificare voi due. Cioè io quando ho visto, ho conosciuto per la prima volta grazie ai tuoi video lui, l'ho contattato perché comunque sì, mi sembrava, dopo che ho visto un po' di video nel suo canale, uno tosto, finalmente uno di coglioni ha detto, l'ho contattato giusto per dire un ciao. E visto che c'era ho detto che poi lui ha cancellato la chat se noi ti avessi fatto proprio lo screenshot, lui ha preso e ha cancellato la chat dopo che io gli ho scritto, non privato, gli ho scritto su Telegram, gli ho detto ciao Amidio mi piace il tuo spirito. E poi gli ho scritto che anch'io ho avuto un po' così, ho litigato un po' con Mario però tutto sommato insomma non è una persona cattiva, è solo un po' impulsiva, una roba così ho detto no? Però l'intenzione mia era proprio di fargli capire che non c'era bisogno di incazzarsi così tanto con te. Però cioè se io devo vedere la cosa in modo oggettivo, secondo me, secondo me aveva ragione lui, nel senso che non ci sono scuse che tu magari, cioè gli dici prima che faccia una donazione e poi ti inventi scuse, cose che non... se no manco glielo dici Mario, questo era quello che penso io. Poi a lui ovviamente non glielo ho detto questo, a lui ho detto semplicemente guarda che sì ce l'ho litigato anche io Mario, non te la prendi perché comunque non è una persona cattiva. Questo volevo semplicemente riappacificare cosa, no? E questo, poi niente, lui io comunque volevo, sono riuscito ieri a finire tutti i suoi video su YouTube, lui è veramente... Allora, dico intanto le cose negative. Uno, sta cosa qua di Crowley, molto sospetta. Secondo, cioè nel senso che questa persona non ha proprio umiltà. Secondo, quando mi ha detto, eh ma brother me lo può dire uno con tante visualizzazioni, perché è un esoterico, che nel suo cazzo di podcast c'ha proprio il simbolo massonico, che era un massone prima, cioè quel cazzo di Mark Passio, no? Cioè lui mi può chiamare fratello, ma tu no. Qual è lo spirito cristiano qua? Cioè uno che ha più soldi e più fama ti può chiamare fratello, cioè come se gli ho chiesto che cazzo non so qualcosa. Cioè gli ho chiesto, ti ho detto fratello, mica l'ho chiamato merda, come gli ho scritto nel commento lì, no? Quindi già qui, proprio, ha fatto proprio una figura di merda secondo me. Poi, niente, sto pensando un po' alle cose, come cazzo decifrare questo qua. Cioè secondo me una persona, noi possiamo parlare, non toccazzo ci pare, ma se io devo dare un giudizio a una persona così, a pelle proprio, senza star lì a studiarlo più di tanto, cosa vedi quando vedi questa persona? Vedi uno con i capelli lunghi, tutto con la barba, sporco, senza famiglia, quindi si sacrifica solo per se stesso. Per me questo, a me non va bene questa cosa. Cioè dove cazzo andremo se tutti facessimo come lui? Cioè questo uno si dovrebbe chiedere, no? Eh ma io do a tutti, dice lui, no? Ah bellissimo questo spirito, no? Però non dobbiamo essere così comunitari, cioè noi dobbiamo avere la nostra cazzo di famiglia, dobbiamo occuparci della nostra famiglia, no? Non devi tu salvare il mondo, tu fai il massimo che puoi con la tua famiglia. Poi in comunità si cerca di fare quello che si può, ma non è che possiamo dare tutto. Perché lui ripete sempre nei suoi video, se noi dessimo tutto, poi avremmo anche tutto, no? Sì, bellissima sta cosa, però insomma occupiamoci della nostra cerchia, senza che dobbiamo qui salvare tutto il mondo, insomma. Quindi quando io vedo questa persona, la prima cosa che vedo, uno, sporco, che gira come un coglione, che sta sempre a fumare. Ma questo vedo, non vedo una persona magari come te, che cazzo non so, che ha una famiglia, che cerca comunque, per quanto non mi piace, diciamo, siamo schiavi, eccetera, eccetera, il lavoro che facciamo è del sistema, eccetera, eccetera. Però, certo, mi era, cioè se io, poi tu per esempio, Mario, sei una persona un po' come me, nel senso che ammetti quando puoi aver sbagliato, per dire, no? Ma questo qua, questo qua gliene è fotto un cazzo proprio, cioè questo non conosce proprio, questo ha, sai che è successo? Il privato? Io, dopo che gli ho detto queste cose qua, lui sa che mi ha detto, cioè, di non prendertela con Mario, insomma, che è una persona buona, tutto sommato, cioè, che è stato il primo messaggio privato che mi ha dato. Questo sai che ha fatto? Ciao Marcel, tutto questo, ha parlato tutto dolce all'inizio, no? Mi ha detto, guarda, ti mando un link del mio, della mia musica che ho fatto, di una canzone che si chiama, bla 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 bla, quello cazzo si chiamava. Sono andato là a sentire questa cazzo di musica, non si capiva il cazzo, chissà il cazzo del messaggio, ho detto, ma fammi spegnere, non è che c'è qualche roba esoterica, ho detto, ma vaffanculo, c'è tazzozzone, ho detto, ho spento. E, visto come si è approcciato, ho detto, ho detto, va bene Emilio, ok, abbiamo capito, insomma, ho capito che non voleva, ha chiuso un po' la cosa, è stato freddo, no? Mi ha mannato il link dalle sue cose, dalle sue minchiate, ma non voleva, cioè, questo è un classico lupo solitario, un po' come Amerigo, no? Anche Amerigo, sono identici, identici. E quindi io questo qua lo posso decifrare perché è uguale, identico ad Amerigo, identico. E quindi lo posso decifrare senza problemi io, lui. Non me può fregare a me questo. L'unica cosa è che questo qua, ultimamente si è buttato un po' di più su questa, diciamo, corrente così cristiana, no? E cerca di, perché ha visto, magari, quando fa quei suoi spettacoli, esattamente come faceva Amerigo, per strada, leggono pezzi così, le fasse sembrava chissà chi cazzo sono, perché di loro non c'hanno un cazzo da dire, leggono pezzi di ali, da libri, per dire, per ipnotizzare i polli che passano là e gli devono dare i soldi. A quel punto tu vedi anche gli altri come massa, quando fai la vita che fanno questi qua. che vai per strada e devi chiedere, e vedi loro come mucche da mungere, no? Che devono dare i soldi per le tue creazioni del cazzo. E quindi questo è, cioè questo qua, gli ho detto, va bene, Emilio, ho detto io, il messaggio, gli ho mandato un audio. Se sono rose fioriranno, nel senso che semmai ci prendiamo, nel senso che come persone, faremo qualcosa, se no, tu per la tua strada, per la mia, ciao, gli ho detto. Questo ha preso, senza rispondere a niente, ha cancellato la chat, quindi è sparito il nome da Telegram qua. Però, comunque io mi sono iscritto al suo canale, per vedere un po' che cazzo, la sua filosofia, eccetera, eccetera. Poi adesso ce l'ho chiara, una specie di Amerigo uguale, identico. Anche Amerigo ti posso garantire che è uguale a lui, molto esoterico. Anzi, Amerigo è ancora peggio. Questo almeno, se lo senti adesso, per acchiappare un po' di polli che gli danno i soldi, si sta buttando un po' sulla roba cristiana, no? Perché ovviamente deve apparire... Poi, porca troia, me parli di crolli? Cioè, a me mi fa vomitare adesso quando ho scoperto questa cosa, che da una parte predica tutta questa roba cristiana, eccetera, poi dall'altra ti pubblica il cazzo di crolli. E questo era un pedofilo schifoso che a Palermo, lì dove sta lui, aveva preso una casa in affitto e... Non sei sai le schifezze che faceva con minorenni. Questo zozzone. E lui lo posta là. Sto coglione. Sto deficiente. Ma, infatti, c'è... Addirittura chiama a me morto, perché nel suo ultimo video che ha fatto chiama a noi, che non seguiamo la legge naturale, le stame che si è svegliata adesso sto coglione, e ci cita la legge naturale a secondo Mark Passio, che è un cazzo di... Massone. Porca troia. Chiaro, eh. Lo dice lui stesso che era uno di loro prima. Mamma mia, fa vomitare quando vedo quel cazzo di Mark Passio. Mamma mia, la sua cameretta, che è un mingerlino schifoso che fa tutto il duro. Mamma mia, è schifo. Insomma, capito? Questo qua, una socia, no? Parla di... Si copre con questa cosa qua di Cristo, della Bibbia, eccetera, quando in realtà è davvero quello spirito là di Alistair Crowley, no? Significa, bene o male, la citazione più famosa di Crowley, che è fai quello che vuoi. Cioè, io sono Dio. E infatti questa è la cosa sua. Lui non la poi... Lui non vuole mai modificare la sua testa. A lui non gliene è fotta un cazzo di... di come la pensa l'altro, di come potrebbe essere... aver sbagliato per dire no, si può ammettere. Cioè, è uno di quei alfa? Cioè, super alfa proprio. Cioè, lui non vuole sapere cazzi. Era la sua strada, nasse dove cazzo gli pare. A me non mi piacciono queste persone che sono troppo sicure di sé. Quindi, secondo me, per dire, il video che io gli ho fatto, lui ha appena visto, io ho fatto un video su lui e ha capito, insomma, che... io, insomma, non sto lì a vedere, a sentire due minchiate, cioè, ti critico e ti contrasto, come cazzo mi pare. Ha preso, lui, secondo me, manco l'ha visto il video e lui non vuole vedere critiche proprio. E infatti lui ci vede come morti. Capito? La stessa cosa che dice l'elite di noi. Capito? Perché lui si è... ovviamente si è istruito dai loro libri. Perché posta a crolli questo? Perché si è istruito dai loro libri. E loro... i massoni nei loro libri dicono del popolo, delle masse, come le chiamano. Cioè, quando uno chiama le masse è come se vede numeri, non vede più persone, capito, no? Ed è un termine molto brutto dire masse, no? Però ecco, loro, questa gente, questi zozzoni, no? Seguaci di Crowley, no? I massoni, alla fine, parlano di noi nei loro scritti e ci chiamano i morti. Molti, effettivamente, lo sono, no? Però... su quello non ci sono dubbi, molti sono effettivamente morti, eh? Però quando lui usa gli stessi termini su di noi per dire che magari... non siamo proprio come i cazzo di zombie là fuori, no? Usa gli stessi... le stesse termini che usano i cazzo di retti, che li richiamo io, no? Così per prenderli in giro, no? Quindi... Va bene, Mario. Non sono riuscito a fare 22 minuti come hai fatto tu. Però gli sono andato vicino. Questo è questo. Di che cazzo vogliamo parlare di più? È questo qua, insomma. Certo, ci vorrebbe uno con i coglioni, però manca totalmente un minimo di umanità. Cioè, questa è una macchina proprio... bellissimo il messaggio che dice così, che, insomma, io prendo i soldi così come sono, li do agli altri, eccetera. Però, insomma. Dall'altra parte poi si ha fatto la richiesta del reddito di cittadinanza, insomma. Eh, però io quei soldi li userò per bene. Ma vaffanculo, non ti cazzate. Prendi i soldi del sistema e sei contro il sistema. Ma va a cagare, coglione. Ma io, in realtà, per dire, non credo manco nelle donazioni. Cioè, per me, tu, devi vedere nel tuo piccolo cazzo. Cioè, tu devi dimostrare con le persone che hai l'intorno e loro ti daranno. Cioè, tu fai qualcosa per... Non devo fare io cose o dimostrare qualcosa agli altri lì online perché mi diano soldi poi. Come fanno tutti questi cazzoni, no? Ma che cazzo stai a fare, coglione? Abbassa la cresta e comportati bene con umiltà con le persone che hanno intorno e loro ti daranno il mangiare. Testa di cazzo. Non devi fare sto cazzo, devi fare Gesù Cristo qua tu, per strada e far vedere quanto sei buono così ti danno i soldi. Coglione. Ma questo qua, sono di canni completamente lupi totali che non hanno proprio la capacità di confortarsi con l'altro e dell'umiltà, eccetera. Sono nella loro testa tutto loro e non riescono a capire che, guarda, non c'è bisogno che chiedi solo il testa di cazzo. Basta che, che ne so, abbassi la cresta e ti comporti umilmente con le persone e li aiuti quando loro hanno bisogno e boom, ti arriva qualcosa. Ecco, io in qualche modo sto sopravvivendo, no? La gente intorno a me mi aiuta, quei pochi. Ma io non voglio chiedere soldi agli altri che manco me conoscono. Che cazzo è questa prostituzione di Mardol. Mardol.